signori andiamo a modificare un bel taxi perchè zi magari te lo vedo eeeh non si sta passando allora grande coppia motore cioè parautini forzati grandissimo telaio grande a a questo questo perchè questo e questo e questo qua se va più ma si allora bah questo cercofani questo è bello più bombato modifiche davanti faccio a modifiche questo questo allora questo qua dai senti metti questo oppure e non lo so perchè capito questo comunque senti comunque si vede che questo un taxi senti metto questo tubi di scappamento quadrati finestrini opzione 1 dai così dai che che cazzo è sta roba vabbè decalcomania a sono sono le strisci che stanno dietro allora facciamo gialle minchia calcomania delle strisce sul parabrezza dietro colore calca allora essendo un taxi io lo manterei giallo allora colore delle rifiniture a a a a queste sono sai che c'è no fa brutto in culo c'è bianco c'è colore cerchioni giallo eeeh colore finestrini nero perchè comunque eeeh quelli che si sederanno dietro vogliono un po' di privacy c'è colori interni sai che c'è pure se pure se non si vede un cazzo c'è scusa colori colori vabbè ruote eeeh stile cerchioni i cerchioni li voglio mantenere giallo oppure ma è questo abbatti strada sai che c'è il taxi deve andare un po' ovunque vabbè stile normale acquista grande è allora grandissimo qualcuno vuole un passaggio? ma che cazzo ma attento c'è il vid ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo Mi sudo Mi sono sudato a sette camicie Mi sono sudato I peggio Mi sono fatto una peggio sudata Per modificare questo schifo Cazzo 555 0, 100 Aspetta, io posso pure fare così Grande Incidente mancato Faccio lo gatto Tanto ripeto I veicoli Io li tengo Tanto ripeto I veicoli Lui me li tiene dentro Il garage No, è bello però L'abbiamo mantenuto più o meno uguale Cioè, vedi Cioè, vedi Questo Questo è quello standard Ops E questo è quello nostro Il nostro è più bello Grande Appunto, il nostro non è esplosso Perché è indisfruttibile Grandissimo Grande Esplosso dopo mezz'ora Per esplosso E di questo e che si veder ci hopefully